un ragazzotto. Torniamo da Marco Rossi Doria, quante di queste storie sentite raccontare? Ne sentiamo raccontare molte e sentiamo per fortuna raccontare anche come se ne esce. Qui c'è una distinzione rispetto all'ultima testimonianza da fare tra il bullismo che avviene dove ti dovresti sentire tranquillo nella tua classe con i tuoi compagni e invece la baby gang che interviene e che non sono i tuoi compagni, sono magari degli estrani, però tuoi coetaneo poco più grandi che stanno dando l'assalto a persone inermi nella tua città. Non sono esattamente la stessa cosa e quindi necessitano di… Ecco, c'è un problema con l'audio, con Rossi Doria. Non so se la professoressa è ancora in collegamento perché siamo quasi in chiusura, professoressa. Eccoci, allora i consigli…